Confermiamo, in Italia abbiamo assunto le misure di massima precauzione, c'è semplicemente da mantenere un costante monitoraggio, una costante disponibilità, se è del caso a rivedere queste misure per incrementarne ancora più l'efficacia, è quello che stiamo facendo? E paradossalmente la voglio ribaltare, ma che cosa vogliamo fare? L'Italia è un lazzaretto? Non ci sono né le condizioni perché si arrivi a questo e ne vogliamo arrivarci, grazie. È difficile prevedere chiaramente e in modo certo l'evoluzione di questo contagio, quel che è certo è che stiamo seguendo le loro raccomandazioni e ragionalmente loro ci dicono che un impatto positivo, le misure contenitive sin qui adottate dovrebbero averlo. Bene, abbiamo tre imperativi etici, collaborare, 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 nell'interesse dei nostri cittadini. Chiaramente adotteremo delle misure di prudenza che si distingueranno dalle altre per la stragrande maggioranza delle regioni. Ma quel fodere di questo cellulare è tornato a Roma o è tornato a Roma? Sì, è tornato a Roma. Abbiamo fatto varie valutazioni, l'orientamento del Consiglio dei Ministri è stato quello di disporre via prudenziale la chiusura delle scuole. Quando questa emergenza sarà terminata, volgeremo lo sguardo indietro e sono convinto che saremo orgogliosi di come un intero Paese ha affrontato con coraggio, con determinazione questa emergenza, deciso a rialzare la testa. Noi stiamo chiedendo a tutto il Paese di avere consapevolezza che siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo marciare tutti verso un comune obiettivo. Noi vogliamo garantire la salute dei cittadini, ci rendiamo conto che tutte queste misure creeranno disagio, ci rendiamo conto che queste misure imporranno dei sacrifici, a volte piccoli, a volte molto grandi. Però questo è il momento dell'autoresponsabilità. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola, ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Stiamo attenti, non affidiamoci a delle stanze e reazioni emotive. Questo è il momento di compiere un passo in più. Quello più importante, l'Italia rimarrà sempre una zona unica, l'Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità delle farmacie, delle parafarmacie. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo.